Buongiorno a tutti, siamo sull'aeroporto di Milano Malpensa, davanti al base gate B40, io e il mio compagno di viaggio, Mirko Maccio. Molto tranquillo, veramente, detto corda di violino. Ebbene, siamo qui e cominciamo la nostra esperienza australiana e speriamo che vada tutto bene. Un saluto a tutti, ci risentiremo in terra australiana. A presto.